Per allacciare le scarpe, inizia incrociando un laccio sopra l'altro. Poi fai passare uno dei lacci attraverso l'anello sotto al punto in cui sono incrociati. Adesso, tira le estremità di entrambi i lacci per stringere il nodo. Una volta fatto, crea un anello con uno dei lacci e tienilo tra pollice e indice. Da questa posizione, avvolgi il secondo laccio intorno all'anello, in modo che venga verso di te. Ora, tira il laccio attraverso il buco tra i lacci, in modo da creare un secondo anello. Ma non infilarci l'estremità del laccio. Infine, tira entrambi gli anelli per stringere il nodo.